Neanche un giorno di apertura e sono già tante le polemiche per la musica alta che proviene dal castello dove è in corso il Perdonanza Village, un evento che fa da cornicio alla manifestazione celestiniana pensato per i più giovani. Segnalazione alle forze dell'ordine, telefonate da parte dei residenti che si lamentano per i decibel troppo alti e per la musica sino alle tre. Insomma, l'estate aquilana e la conciliazione tra divertimento e riposo dei residenti continuano a far parlare proprio nel momento in cui è scattata l'ordinanza, firmata dal sindaco Pierluigi Biondi e altri attori che consente la deroga per tenere la musica agli organizzatori di eventi sino alle due per i locali illimitata per chi organizza gli eventi. Ma subito si infiamma la polemica già la prima sera dell'evento al castello che proseguirà sino al 21 agosto un'ordinanza che in sostanza è stata fatta proprio per il Perdonanza Village, per gli eventi legati alla Perdonanza ma anche per il jazz di settembre e per la manifestazione sulle tracce del Drago. Oltre all'orario prolungato, l'ordinanza consente di utilizzare degli amplificatori per diffondere la musica un'ordinanza attiva fino al 3 settembre. Le proteste dei residenti però non si placano, è sempre il solito discorso conciliare i due aspetti il divertimento di una città finalmente viva con tantissimi giovani turisti in giro con il riposo di chi il centro lo abita e di chi il giorno successivo deve andare a lavorare ma molti dicono si tratta di pochi giorni in cui la città torna a vivere, fateci fare. Allora è giusto tenere la musica alta l'estate con la deroga? No, 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 non deve essere assolutamente alta perché chi vuole la musica va lì e l'ascolta, chi non la vuole... Quindi non va bene l'ordinanza fino alle 2 e le 3 per la Perdonanza, neanche per una settimana? Per l'ordinanza, per l'occasione va bene, ma però questa è una cosa che si ripete quasi tutte le sere il periodo estivo. I residenti vogliono riposare? Certo, certo. È giusto secondo te dare la possibilità insomma di tenere la musica alta sino a tardi in estate e soprattutto qui all'Aquila per la Perdonanza? Secondo me sì perché è un'ottima occasione di rinascita per la città, ovviamente nei giusti limiti per quanto riguarda i residenti che ovviamente a lungo andare magari possono lamentarsi, però dopo un periodo di chiusure tra Covid e terremoto un minimo di libertà in più la concederei. Ti piace questa nuova vitalità dell'Aquila? In questo momento è piena, ci sono locali? Sì, assolutamente sì, da ex commerciante del centro mi piace rivedere la città che sta ripartendo nonostante le polemiche che ovviamente possono esserci. Grazie a tutti!